Buongiorno telespettatori di Nettuno TV, buongiorno anche a chi ha scelto di seguirci in streaming su nettunotv.tv, rassegna stampa di oggi, mercoledì 14 marzo 2018. Andiamo subito sui nostri quotidiani, li vedete anche a favore di telecamera. Iniziamo ovviamente come ogni mattina con i quotidiani della sezione locale Bologna. Iniziamo con il resto del Carlino, sezione di Bologna, la vedete la prima pagina del giornale, comitato nel taglio superiore, comitato operativo riunito a Gaggio Montano. La Frana continua a fare paura, pronti allo stato d'emergenza. In visita Marano, il ministro dell'ambiente Galletti e il prefetto Piantedosi, la rassicurazione, dicono il governo farà la sua parte, eventi da non ripetersi. Qua si parla ovviamente della frana che ha colpito la strada di Gaggio Montano dopo la neve, il freddo, il ghiaccio e poi le grandi piogge con il rischio delle esondazioni. Ma andiamo avanti nella prima pagina del resto del Carlino, sezione di Bologna. Al centro la foto, bici, la stangata, aumentano le multe ai ciclisti indisciplinati, più di 1700 in un anno. Andiamo ancora avanti, nel taglio invece inferiore, in arrivo ad aprile i biglietti dell'autobus direttamente sul cellulare. La validatrice li riconoscerà dallo smartphone. Questa è la notizia, la novità per quanto riguarda i mezzi a Bologna. Comune, poi carta d'identità nel taglio laterale, carta d'identità da lunedì, solo la versione. Elettroniche, poi invece da venerdì le forme del gigante. Ecco la mostra sul Nettuno, si torna a parlare della fontana del Nettuno recentemente ristrutturata. Andiamo ad aprire il resto del Carlino, parte di Bologna, si inizia subito le prime pagine, pagina 2, con la mobilità. Cosa cambia? Il piano comunale, l'assessorato alla mobilità ha dato il via. Una serie di interventi per tutelare piazze e strade, di particolare pregio al centro la foto con tutta la mappa della viabilità e poi ancora invece nella parte inferiore della pagina 2, controlli anche le fioriere contro la sosta selvaggia. Via i fittoni tornano le telecamere, modifiche in corte galluzzi, via delle moline, via dei falegnami. E poi riqualificazione, le misure per limitare gli accessi prevedono anche interventi commerciali. Carico e scarico sarà fino a metà della strada per la piccola traversa di via Indipendenza. Tra le iniziative di cui si comincia già a parlare, ci spostiamo. Pagina 3, i biglietti del bus con il cellulare. La novità T-Per, dal 15 aprile basterà accostare lo smartphone al validatore. Qua poi in alto invece le varie foto che spiegano come si può fare, come si farà. Anzi, con il cellulare si carica e si riparte e poi accostando lo smartphone dal validatore si convalida la corsa. Se si cambia il mezzo si procede con una nuova validazione. Nella parte inferiore, Gualtieri, investiamo per i nostri utenti. Entro il 2018 anche CityPass e abbonamenti. A proposito proprio di questo argomento, noi lo andiamo a sentire il presidente della DT-Per, Giuseppina Gualtieri. Un ulteriore strumento per poter acquistare il biglietto. Voglio ricordare a tutti i cittadini che è importante sapere che continuano a esistere tutti i biglietti fino ad ora esistenti, compreso quello del biglietto a bordo a Bologna, eccetera. C'è uno strumento in più che riguarda la possibilità sugli smartphone che hanno Android di poter scaricare un'applicazione dal 15 di aprile, perché adesso l'abbiamo sperimentata con un po' di utenza ma è ristretta, di poter scaricare con questa applicazione gratuita la possibilità di comprare dei biglietti singoli. Per ora i biglietti singoli, poi arriverà progressivamente nei mesi anche la possibilità di acquistare i CityPass, i biglietti mensili, gli abbonamenti mensili annuali sul telefono in modo da poterlo utilizzare quando si vuole. Il vantaggio di questo sistema, che ha questo tipo di telefono, può scaricare l'app, comprare il biglietto con la sua carta, eccetera, tenere il biglietto come se avesse un biglietto in tasca, quindi ne può comprare uno o due, anche di più, e utilizzarlo quando gli serve. Con il telefono c'è un video tutorial che c'è sul nostro sito che fa vedere esattamente come funziona, col telefono, con l'applicazione, passa il telefono davanti ai nostri validatori, il biglietto si attiva, fa vedere i 75 minuti di durata che scatta, fa luce verde e uno viaggia regolarmente. I verificatori che controllano i biglietti hanno dei palmari che possono verificare dal telefono che il biglietto è regolare. L'altro vantaggio importante di questo biglietto è che, siccome c'è il contatore, uno sa esattamente quando è scaduto, quindi i famosi 75 minuti. Torniamo invece sulle pagine del resto del Carlino, all'interno della sezione di Bologna, pagina 4, la sezione di cittadino cronista dove vengono segnalate da parte dei cittadini zone di degrado o situazioni di degrado e allora andiamo a leggere quello che viene segnalato. Via Santo Stefano sommersi dal fango con una foto al fianco del piccolo articolo, poi ancora zona universitaria, bellezza rovinata dai graffiti, nella foto il palazzo con tutti i disegni. Sulla facciata poi ancora Ponte dei Cedri, un'indisturbata baracca abusiva e anche qua a lato la foto della baracca in questione. Via Boldrini, Vespasiano a cielo aperto, a pochi passi dalla stazione centrale Bologna presenta il suo lato peggiore, la foto con il Vespasiano ricavato all'aperto e poi ancora Via Arno, rifiuti alla portata di tutto, i da foto con la campana del vetro messa in condizioni anche abbastanza pietose, rotta e i rifiuti appunto, come dice il titolo, alla portata di tutti. Pagina 5, del resto del Carlino Bologna, la stangata, triplicate le multe ai ciclisti. Il trend è cambiato, nel 2015 si contavano 231 verbali ai ciclisti, nel 2016 erano stati 495, l'anno scorso sono state staccate 1708 multe, il codice della strada, le biciclette sono considerate veicoli a tutti gli effetti, quindi con le stesse regole di auto e moto sulla strada e appunto la campagna per le regole voluta dal sindaco ha portato l'anno scorso a 1700 sanzioni a lato 445 verbali e 249 ciclisti, e il numero invece di quelli pizzicati dalla polizia che non rispettavano le regole. Forza Italia dice soddisfatti l'Isei e Bignami che da tempo chiedevano per severità, più severità scusate, e rispetto. Andiamo nella parte inferiore della pagina, le opinioni favorevoli, Federico Bendinelli di Aci, i controlli funzionano tutti, ora stanno più attenti e poi ancora invece contrarie a Sara Poluzzi di Ossigeno, non sono le mici il problema ma chi uccide sulle strade, le due opinioni ovviamente contrapposte. Pagina 6, resto del Carlino Bologna, colpo d'artista, le mani sulle opere sacre, furto in Pinacoteca, i predoni in azione in musei e chiese. Nella foto ci sono anche i numeri, 32 casi denunciati, nel 2016 sono stati denunciati ai carabinieri, 32 furti di opere d'arte, l'anno precedente erano stati 52, 46 controlli militari del nucleo, i militari del nucleo tutela del patrimonio. Nel solo 2016 hanno effettuato 46 verifiche per la sicurezza nei musei e poi ancora i numeri in regione, la città, le città più colpite sono Bologna e Parma ma i reati sono in diminuzione. Nella parte inferiore della pagina, di pagina 6, incredibile la mancanza di un'adeguata videosorveglianza, gli studenti stupiti si dividono sull'identità del ladro, non può essere una persona qualunque, conosceva il luogo, Rita Silvestri dice sapeva come muoversi, non era uno sprovveduto e poi invece nel taglio laterale c'è anche la parola, l'intervista a Sgarbi, parla a Sgarbi, la tela sottratta è un'occasione per parlare del patrimonio bolognese. Pagina 7, si torna a parlare della fontana del Nettuno, il Nettuno rinascimento d'acqua, da dopo domani, il 10 giugno, una mostra in Santa Maria della vita, esposizione Fabio Roversi Monaco, tecnologie d'avanguardia nella statua, la foto ovviamente del Nettuno al centro della pagina, invece nella parte inferiore di pagina 7, in prestito da Modena, dopo 700 anni la secchia rapita torna a casa, e questo a livello locale sì che è una notizia. Andiamo avanti, pagina 8, resto del Carlino Bologna, strage del 2 agosto, si torna a parlare della strage del 2 agosto, Fiore Maggi, testimoni, processo a Cavallini, legami tra movimenti da chiarire, prima udienza è fissata per mercoledì 21, è accusato di aver dato supporto logistico agli autori materiali, e poi ancora, sempre a pagina 8, il punto, ieri si sono chiusi i termini per presentare le liste, c'è anche il figlio di Sparti, e poi Vile, Ivolti, Big, Francesca Mambro, Giusva Fioravanti e Luigi Ciavardini, negli esecutori materiali, chiamato anche il generale dell'arma Mario Mori al tempo dell'anticrimine Felsinia, poi il Parlamento, la difesa ha dichiarato, ha chiamato il senatore Carlo Giovanardi, membro della Commissione Moro, per riferire di atti secretati sulla strage, discussioni e lavori, e poi formazioni, le parti civili hanno chiesto l'esclusione di Roberto Fiore, tra i fondatori di terza posizione di quello del Movimento Ordine Nuovo, Carlo Maria Maggi. Pagina 9, resto del Carlino Bologna, SOS Bolognina, occuperemo le ex minganti, il volantino è apparso nei pressi delle officine, la firma è dell'XM24, le foto che ritraggono la situazione, l'attacco, nel manifestino compaiono anche riferimenti ad Ara, Lepore e Mazzanti. Poi ancora invece nel taglio inferiore spaccia la droga del kamikaze, pusher arrestato via di Vincenzo, un nigeriano di 35 anni, in manette, sequestrati 10 grammi di shabu, che è appunto chiamata anche la droga del kamikaze. Pagina 10, si parla di People Mover, assoluzione bis per Del Bono, dopo la vittoria nel penale arriva anche quella in appello alla Corte dei Conti, l'ex sindaco chiuso un lungo calvario, noi accusati di danno prima che la navetta sia inaugurata, queste le parole dell'ex sindaco di Bologna, nella parte di mezzo di pagina 10, GVC, Lilt, in campo la squadra per la lotta contro i tumori, prevenzione da sabato 25, gli specialisti informano la cittadinanza e a lato la foto di alcuni specialisti. Nella parte inferiore invece Comunità Russa, Benedizione Pasquale, la foto e poi Regione, sia alla fusione tra CUP e Lepide, poi Emil Banca e GVC per Aleppo raccolta fondi destinata alle scuole. Il ruolo proprio di Emil Banca ce l'ha spiegato il direttore generale Daniele Ravaglia nell'intervista di Mario Giulianti. Sentiamo. Questa è un'iniziativa che abbiamo portato avanti a cavallo di Natale proprio con GVC, un'iniziativa che si ha visto coinvolgere mille soci e clienti nell'acquisto di gocce per poter raccogliere dei fondi da destinare all'acquisto di materiale didattico di aula per i bambini di Aleppo. Quindi un evento straordinario, io credo, che si conclude in modo originale, al di là della donazione, diamo la possibilità a un nostro collega, a un nostro dipendente e a un cliente della banca di partecipare per una settimana a un'esperienza in Tunisia, andranno a visitare una cooperativa di donne che cercano di affrancarsi dalla povertà, essendo loro stesse e questo è il loro futuro. Un'esperienza, credo, straordinaria che dà la dimensione della solidarietà anche internazionale di Emil Banca. Per quanto riguarda gli stakeholder della banca, partendo dai lavoratori e arrivando ai clienti, a loro cosa si sente di dire? Sono comportati benissimo, sapendo che c'è questa manifestazione e comunque anche questo progetto da affrontare? Io credo che il fatto che si siano comportati bene, cioè che abbiano risposto alla nostra solicitazione, deriva da un fatto molto concreto, che noi documentiamo sempre la fine che fanno le donazioni che noi riceviamo. L'abbiamo fatto con tutti gli eventi ai quali abbiamo partecipato, e sono tanti. Mi piace ricordare in particolare quello della terremoto, dove abbiamo personalmente, anch'io ho partecipato a una missione dove siamo andati a portare tutti i risparmi, i soldi, le donazioni che abbiamo ricevuto ai nostri soldi, i soci e i clienti. Quindi una capacità di rendicontare con chiarezza e trasparenza dove vanno a finire le donazioni. Credo che questo sia un elemento di serietà e che quindi ci fa ascoltare e fa partecipare i nostri soci, i nostri clienti, i nostri dipendenti. Torniamo sul quotidiano, pagina 11, resto del Carlino Bologna, in alto PD e Calvano si accorcia il mandato. E poi ancora proteste nelle aziende, Unipol domani sciopero in tutto il gruppo, niente accordo per Granarolo, Piquadro avvia trattative per acquistare le borse di Lancelle. Poi nel mezzo il cambiamento avrà un chip per garantire le protezioni dei dati, si parla della carta d'identità. Addio alla vecchia carta d'identità, da lunedì solo la versione elettronica. Costerà 22 euro per richiederla, servirà un appuntamento con l'URP, la tessera arriverà poi a casa. Nella parte inferiore invece Genus al via lo incorporo degli immobili, Fondazione Carisbo, il consiglio di amministrazione ha votato a lato poi dalla prima Marco Biaggi, un uomo libero questo è il titolo. Andiamo avanti, pagina 12, cronaca furto in Fanep, mille euro il bottino. I ladri si sono introdotti da una piccola finestra priva di inferriate, poi messaggi a luci rosse, questa è la vicenda, poi abiti da sposa, sfilata solidale. Poi invece nella parte inferiore l'intesa ha firmato un protocollo fra comune, Asper, Cidiocesi, Università, Carisbe, Quartiere, Santa Maria del Baraccano, due milioni per ristrutturarla. Ancora avanti, pagina 15, siamo alla provincia, nella sezione della provincia del resto del Carlino Bologna, pronti allo stato d'emergenza. Gaggio le rassicurazioni del ministro Galletti e del prefetto, tempi lunghi, impossibile stabilire quando riprenderà la normale circolazione ferroviaria. Si torna a parlare ovviamente della Frana che ha investito la strada verso Gaggio Montano, Valsamoggia, Lato, poi Smottamenti, si va verso la normalità, riaperta la strada per Tiola ovviamente, non è stato solo quello di Gaggio, quello che è successo nelle strade, ma insomma per via del ghiaccio, del freddo, della neve, e poi delle successive forti piogge, sono stati tanti danni alle strade provinciali. Poi ancora Loiano Zanotti, batterista di Vasco e Bertè, da due giorni ostaggio della Frana, il musicista isolato, almeno suono in pace, dice, situazione critica, il ponte sul Sillaro tra Monterenzi e Castel San Pietro è chiuso per il cedimento di un pilastro. Andiamo avanti, pagina 16, Casalecchio di Reno, un folle in seguimento lungo, 120 chilometri, Valsamoggia, i due agenti che hanno braccato il fuggitivo, grande operazione, la foto qua del inseguimento, anzi della fine del seguimento, lo vedete con la macchina che è uscita di strada, Lato, in breve, Jets a teatro e poi disabili e famiglia. Nella parte inferiore invece è Casalecchio, il festival della Fisammonica e della Solidarietà, via la ventesima edizione raccolta fondi per il Ramazzini. Pagina 17, San Lazzaro e Valle dell'Idice, invece i cittadini virtuosi fanno più bella. San Lazzaro, una cinquantina le persone disponibili a collaborare con il Comune. Poi ancora avanti, in breve, Piero Mioli parla di Rossini, venerdì alle 21 marzo al cinema in Italia di Castenaso si terrà la conferenza di Piero Mioli, direttore artistico del cartellone rossiniano, per il centocinquantesimo anniversario della morte di Gioacchino Rossini. Festa del Maiale, poi invece domenica alle 8.30, alle 18.30, a Monghidoro, parte inferiore, sempre San Lazzaro, commercianti divisi sul nuovo piano, parcheggi a scomplaude all'iniziativa del Comune, contraria a confesercenti, nessun confronto con noi. Queste le parole delle due opinioni. Poi Castel San Pietro, ancora pagina 18. Conosco bene la mia città, il leghista piastra, il sindaco so anche quali sono i problemi. L'elenco, turismo, strade, periferie abbandonate, terme, ecco da dove cominciare. Scorriamo la pagina nella parte di mezzo, 50 anni di televisioni raccontati da Bruno Voglino. Nella parte inferiore, invece, MD, apre uno store a Castello. Oltre mille metri quadri, sulle miglia, domani alle 8, la cerimonia di inaugurazione. In pianura, pagina 19, caccia all'esibizionista del parco. Castel Maggiore, l'uomo si è calato i pantaloni davanti a due ragazzine. Budrio, in mostra le opere di Vaccaro, sabato alle 17, alla galleria L'Art Est di Budrio, verrà allestita la personale del titolo Nessessitude del maestro di pittura Francesco Paolo Vaccaro. Questo invece è un evento da poter seguire. Poi ancora nella parte inferiore di pagina 19, nuovo semaforo sulla porrettana per proteggere gli studenti. Altedo, investimento di 40 mila euro per l'impianto, ha chiamata il sindaco Giovannini, favorirà anche l'immissione della nuova tangenziale di Altedo, presto segnaletica anche sulla rotonda. Pagina 20, brevi dalla provincia, Castel di Casio, Metalcastello e Antti insieme nella lotta contro i tumori. Poi ancora San Giovanni, gli alunni delle Quaquarelli in visita al Carlino. Marzabotto, poi nominati membri della Scuola di Pace, San Giovanni invece, Fabio Minichino, nuovo presidente Confcommercio Asco, Monzuno invece, Nicola Guerra, sindaco dei ragazzi e nella parte inferiore. Dodi Battaglia, testimonial per la guida sicura, Castiglione, alle attività sono stati coinvolti gli studenti superiori. Chiudiamo il resto del Carlino, sezione di Bologna, ci spostiamo sul QS, il quotidiano sportivo del resto del Carlino. Nella parte superiore, addio a Beggio, papà dell'Aprilia, scoprirossi, Biaggi e Capirossi. Nella parte centrale invece la foto di Francesco e Simone Verdi, crisi di coppia. Bologna, il cambio di modulo penalizza Verdi di Francesco, i due amici devono superare il momento negativo. A lato invece si parla della Roma, colpo Roma nei quarti di Champions dopo la vittoria del tecnico di Francesco con i giallorossi. La parte inferiore invece la Juventus trova l'Atalanta, se vince si porta più 4 sul Napoli di Sarri. Il recupero, ore 18 all'Allianz Stadium, basket Serie A 2, Pillastrini, Fortitudo e Treviso daranno vita. Un grande spettacolo, questa la previsione, ciclismo al secondo posto, l'Azzurro Caruso, la Tirreno Adriatico, parla polacco, trionfa il cognome, che non mi azzardo neanche a pronunciare, Gregario, di Frum. Andiamo all'interno ovviamente del quotidiano sportivo del resto del Carlino, Serie A, recupero l'Atalanta alle 18 all'Allianz Stadium, Tare contro il VAR, tolti 12 punti. Il DS della Lazio, vogliamo dire che sono solo 6, va bene, ora la classifica sarebbe diversa, Champions quasi sicura. Il titolo principale, c'è la Dea sulla strada del Paradiso, Juve recupero, può valere più 4, gara chiave, bianconevi, dopo il sorpasso possono allungare sul Napoli. Poi ancora in basso, Balotelli e Adi Biagio, sono cambiato questo appello di Mario Balotelli per cercare di avere e di riconquistarsi. Un posto in nazionale, ancora Sport, Roma, la notte perfetta, Gekogol rimonta, due italiane, nei quarti Champions League contro lo Shakhtar, eliminato. Nella parte inferiore invece ancora in Champions, Conte serve l'impresa, Barcellona si parte dall'1-1 all'andata e poi ancora Colpo Montella elimina. Mu a Manchester, il Siviglia passa in Inghilterra, 2-1 dopo lo 0-0 della andata. Ancora avanti, pagina 4, QS, quotidiano sportivo, sezione del resto del Carlino, verso il posticipo, distrazioni che fanno discutere, arbitri, la Lazio alza la voce, il Bologna dovrebbe gridare. Invece Tare vede un complotto, Rosso-Blu molto più penalizzati, qua si parla di errori e penalizzazioni anche nonostante l'ausilio della VAR, della Video Referee Technology. Poi ancora Sassomarconi, c'è il tutto cuoio per blindare la salvezza, in basso invece l'Axis Zola chiede strada al Folgore, il progresso a Cervia. Pagina 5, nella parte alta si parla di Bologna, in difficoltà, due ragazzi da rilanciare, Verdi di Francesco, si è spenta la luce, metamorfosi, tre cambi di ruolo e moduli inediti. Tra cambi di moduli inediti, Donadoni ha impoverito la Verve dei giovani, un attacco abbastanza all'allenatore. Poi ancora in basso, Beffati, gli Under-17, Rosso-Blu, Trofeo, Viola, Al Torino, Serie B, Brienza, Salva e Bari, Collospezzi e Sabione lancia il Carpi. A Pescara, pagina 6 del quotidiano sportivo, la Virtus in alto, spera di recuperare Stefano Gentile contro Brescia, poi invece nella parte centrale, Fortitudo più esperta, ci sarà tanto agonismo, basket a due, Pillastrini e Treviso domenica. Domenica al Paladozza, le ultime poi, Ocherfor si sta allenando con l'Aquila, era sbarcato ieri a Bologna. Nella parte inferiore invece, Orlandi, voglio pedalare sempre all'attacco come contador, il ciclismo, il 19enne bolognese ha rispettato la tradizione di famiglia, nonne e papà sono stati dei corridori di buon livello. E poi ancora, pagina 7, moto mondiale, ci lascia uno dei grandi di sempre, addio a Beggio, papà di Vale e Max, affondato e portato l'Aprilia sul tetto del mondo, Biaggi, Scardinò, lo strapotere giapponese, queste le parole in ricordo, le parole di Max Biaggi in ricordo di Beggio. E poi ancora, morto Bebeto, il CT del Mondiale 28, volley, malore fatale per il tecnico dell'ultimo, titolo iridato, azzurro. Chiudiamo anche il quotidiano sportivo del resto del Carlino, ci spostiamo invece su Repubblica Bologna, eccola qua, vedete la prima pagina di Repubblica Bologna, reddito solidale, lega all'attacco, troppi stranieri, dice, scontri Regione, Gualmini è la realtà, crisi Dem, Calvano anticipa il congresso. E poi ancora nella parte centrale, io che ho preso la tessera PD, dopo il crollo, poi ancora il caso, la Corte dei Conti assolve Del Bono e gli altri imputati sul People Mover. Andiamo all'interno delle pagine di Repubblica, sezione di Bologna, lega contro Gualmini, lo vedete in foto anche l'attacco del carroccio, il 45% dei soldi va agli stranieri. La replica, la norma tutela le famiglie numerose, poi invece a lato si torna a parlare dei vaccini e sui vaccini la Regione si fa prudente e si torna a parlare ovviamente della legge di obbligatorietà. Pagina invece 3 di Repubblica Bologna, passi indietro di Calvano, il PD anticipa il congresso, poi invece nella parte più bassa il neotesserato, scelgo il PD sconfitto, è ora di partecipare, questo l'appello anche per i cittadini. Pagina 5 invece la carta d'identità diventa solo elettronica e costa 22 euro, poi ancora i trasporti, il biglietto dell'autobus si pagherà con un clic sul cellulare, poi ancora i vigili in borghese multano le biciclette. Pagina 6 invece meno disoccupati d'export, in salita Bologna riscopre la crescita felice, a lato invece si torna a parlare di fico, le vertenze dipendenti, fico, summit in comune, vigileremo sui contratti. Nella parte inferiore l'inchiesta People Mover assolto del Bono, nessun danno era reale, la decisione in appello della Corte dei Conti riguarda anche la giunta di allora annullata, il maxirisarcimento. Pagina 7 invece nella parte alta, Mori, Fiore e Maggi, tutti i testimoni, si torna a parlare della strage di Bologna, 2 agosto, processo a Cavallini, generale e neofascisti convocati dalle parti civili. La difesa chiama Giovanardi, scorriamo ancora in pagina 7, i tre processi che si intersecano in tribunale, i complici mandanti, la verità storica sul 2 agosto, restano molti angoli d'ombra. E poi qua la storia dell'inchiesta sulla strage a molti punti in comune, con il caso Moro di cui in questi giorni ricorre il quarantesimo anniversario. Pagina 9, l'accordata del Baraccano. L'ASP investe 2 milioni e ottiene l'aiuto di Fondazione Carisbo, Ateneo e Curia. 2 milioni di euro appunto per ristrutturare una delle chiese più amate dai bolognesi e questo l'impegno di ASP Città di Bologna che investe nel recupero appunto e nella valorizzazione del santuario Santa Maria del Baraccano. Ai nostri microfoni Gianluca Borghi, amministratore unico ASP Città di Bologna nell'intervista di Elisa Orlandi. Implica un impegno, un impegno concreto, formale, che entro 45 giorni verrà trasformato in un vero e proprio accordo di programma secondo norma di legge, nel quale tutti i contraenti questo patto, questo accordo hanno dato una disponibilità importante, fondamentale, partendo dalla nostra azienda pubblica di servizio alla persona, ASP proprietaria della chiesa del Baraccano e allora abbiamo ritenuto necessario, nel quadro della manutenzione ordinaria o straordinaria di tutto il nostro patrimonio, pensare anche a riservare le necessarie risorse per restituire ai bolognesi, a Bologna, questa straordinaria testimonianza artistica, storica e testimoniale che dal 400 in poi ha segnato questa parte di città e questi lavori, questo recupero architettonico e artistico costituiranno anche il primo passo per un più complessivo impegno, sancito dell'amministrazione comunale, nell'andare ad un recupero dell'intera zona, dell'intero comparto, a partire dalla piazza del Baraccano e a partire anche dalle mura, antiche mura e retrostanti della nostra chiesa. Quali sono i primi lavori che andranno fatti a questo santuario? Consolidamento, consolidamento strutturale, abbiamo ricevuto risorse anche dalla Regione Emilia Romagna, che voglio ringraziare, ma le utilizzeremo nel più complessivo lavoro di restauro e di ristrutturazione, quindi un consolidamento e il ripristino ovviamente di tutta l'impiantistica, il restauro, il restauro degli affreschi. Si tratta di un lavoro complesso che riguarderà dal punto di vista civile, dell'ingegneria, ma anche artisticamente parlando, complessivamente tutta la struttura. Il protocollo d'intesa per il recupero del santuario del Baraccano, sottoscritto ieri pomeriggio nel quartiere Santo Stefano insieme ad ASP, coinvolge oltre al Comune di Bologna, Alma Mater Studiorum, ma anche l'Arcidiocesi di Bologna. Allora andiamo a sentire le parole dell'Alcivescovo Matteo Zuppi, sempre nell'intervista di Les Orlandi. Riportare alla bellezza questo santuario, che cosa vuol dire? Vuol dire restituire alla città tutta, ai fedeli chiaramente, ma tutta quanta la città, un luogo di una bellezza e di una storia, che è la bellezza e la storia di Bologna. È uno dei luoghi più significativi, ricorda le mura, ricorda il miracolo, tutte le attività di assistenza, di cura alla persona che da quell'immagine sono scaturite, da quella fede sono scaturite, e quindi è restituire un valore che è quello della nostra città. In che modo partecipa l'Arcidiocesi a questo protocollo d'intesa? Come sarà l'appaltante e poi, se necessario, anche con un contributo. Poi vogliamo che sia una chiesa, come già avviene adesso, il luogo di preghiera e di incontro, per continuare quella storia di quel luogo, di cui forse c'era ancora più bisogno, normalmente si chiamava anche la Madonna della Pace, e credo che c'era anche un grande bisogno in un mondo dove c'è troppa rabbia, dove c'è troppa abitudine alla violenza e dove purtroppo ci sono ancora tante guerre. Torniamo sull'interno di Repubblica, pagina 10, siamo alla sezione sportiva, Luppi prossimi otto mesi senza pallone, prima e dopo a sinistra, risultanza di Eugenio Maria Luppi a novembre dopo il gol, partita al Marzabotto a destra, l'incontro a Rimini con Franco Leoni, l'Auzzi per reduce dell'Ecidio, si torna a parlare, lo ricorderete forse, dell'episodio del saluto romano in una partita appunto di calcio, in cui Luppi appunto fece il saluto romano e è stato squalificato, è stato fermato per qualche giornata la squalifica, infatti il caso Marzabotto è la squalifica. Il pagina 11 invece il Bologna, si parla del Bologna FC, in alto torneo Viareggio per il BFC, brutto avvio, si parla della primavera, nella prima partita del Viareggio, giocata ieri a Volterra, il Bologna ha perso 4-0 contro i Lettoni del Rigas Football a scola. Prossimo impegno domani alle 15.30 a Viareggio con il Cagliari e poi Beppe Viola, rosso blu capo in finale, il BFC cade in finale dal trofeo Viola col Torino per un rigore al decimo, dal termine anche un palo netto al settantesimo per il rosso blu, resta per gli under 17 di Magnani un secondo posto molto positivo. Invece nella parte principale si parla di Bologna, la prima squadra, l'intervento, il Bologna sa solo autosollevarsi, più dei risultati manca la passione. La foto qua di Avenatti con la palla goal che ha avuto nella scorsa partita di testa ma che non è riuscito ad insaccare. Chiudiamo anche Repubblica, sezione di Bologna, ci spostiamo invece sul Corriere di Bologna, la prima pagina in alto, poveri e ricchi, le due milie, il lavoro c'è, la sfida sul welfare, poi ancora la crisi del PD, le primarie d'autunno, Calvano si gioca tutto. Nella parte centrale invece strage, chiamati 140, testimoni, processo Cavallini, nelle liste ci sono familiari delle vittime ma sarà il giudice a decidere chi ammettere la difesa, la convoca, il figlio di Sparti, le parti civili indicano anche Fiore, leader di Forza Nuova. Scorriamo ancora la prima pagina, Tiperra nell'era digitale, il biglietto del bus si farà con il cellulare, poi ancora al People Mover, Corte dei Conti, l'ex sindaco, ci sono voluti nove anni del bono assolto. Nella parte inferiore la mamma, la prof e il loro Luca insieme raccontano in un libro la storia di disabilità e inclusione del ragazzo. Apriamo il Corriere di Bologna, andiamo all'interno del quotidiano. Primo piano le scelte della politica PD, resa dei conti solo in autunno, Calvano pesca la carta. Primari e segretario regionale, gioca d'anticipo il congresso prima della scadenza del mandato. E poi ancora pagina 3, sempre del Corriere di Bologna, i sussidi attivi e le nuove promesse, dal resa alla proposta dei 5 stelle. Nella parte inferiore invece più occupazione, ma più vecchia, gli over 45 sono la maggioranza nella settore del lavoro. Poi ancora pagina 5, la strage alla stazione, si torna a parlare della strage della stazione di Bologna, processo a Cavallini, ma non solo, 140 testi, le parti civili chiamano omaggi. Fiore, grande regia nera, opista palestinese, nella lista dei testimoni, le strategie degli avvocati. Queste le novità ancora, pagina 6, il Corriere di Bologna, la cronaca, nuovo sciopero degli appelli, aderiscono 300 prof di Unibola, la stensione riguarda la prima data di esame tra l'1 giugno e il 31 luglio. In basso i timori degli studenti, in rete è partito il tam-tam di coloro che devono sostenere la prova. Con chi protesta e poi ancora il docente firmatario, chiediamo anche 80 milioni per le borse di studio, gli allievi non sono la controparte. A lato invece dal Senato accademico, nominati 5 saggi per le sezioni del CDA, in arrivo, 75 ricercatori, pagina 7, people mover, niente danno. Era reale, la Corte dei Conti assolve in appello del Bono la sua giunta, la dirigente Bruni, l'ex sindaco, 9 anni, per capire che non c'erano reati, né penali né contabili, poi da lunedì carta d'identità elettronica. L'abbiamo già detto e poi ancora addio a monetine e macchinette sul bus, il biglietto lo fa il cellulare. Rivoluzione Tiper si parte a metà aprile con un'app, ma al momento solo per Android. Ancora in basso, così agevoliamo anche i controllori, i gualtieri e il tesoretto dei mancati resti, noi limpidi. Si parla anche dei mancati resti delle macchinette all'interno dei bus di Tiper. Ancora la cronaca, pagina 8, Luca con il superpotere della fragilità, narrato da una fata e una principessa, da un video nato all'interno del Salvemini, al volume della madre e dell'insegnante. Questa è l'iniziativa, l'evento. Frana di Gaggio, treni fermi, molti disagi per i pendolari, e poi ancora in Bolognina, spaccio a sciabù in manette. 35enne economia, andiamo all'economia, Genus Bononi e si spacchetta in due la gestione dei palazzi, a un fondo via libera del CDA, bilancio della fondazione, utile in rialzo rispetto all'anno scorso. E poi ancora Piquadro punta a comprare l'anselle, il titolo vola in borsa a più 3,14. Andiamo ancora avanti, lo sport del Corriere di Bologna, mercato rosso-blu, promossi Palassi e Poli, inspiegabili le spese per Avenatti e Falletti, ricchissimi contratti per De Maio e Gonzales. La foto poi è di Falletti e poi a lato invece K.O. anche gli allievi, Viareggio Disastroso, 0,4. Con il Riga, il torneo di Viareggio della primavera, nella parte inferiore invece il Bologna costa 87 milioni l'anno, alcuni esempi per spenderli meglio. Poi è pagina 11, ancora lo sport, le riflessioni di destro per l'estate, futuro inglese Sedona Doni resta. Mattia sfiduciato dal tecnico, da Bigone e da Divaglio, su di lui Watford e West Ham. Poi invece qua la fortitudo, il nuovo play, Teddy si allena già con la F, il nuovo acquisto dei bianco-blu. Culture, spettacoli, canzoni e video al Pratello, il progetto presentato da Alessandra Bado, dalla sua Mozart 14, il progetto Leporello, risultato del laboratorio di songwriting, tenuto dai musicoterapeuti all'interno del carcere minorile, con i detenuti, stasera clip e foto nei locali della via. Appunto è stata presentata ieri in conferenza stampa dall'Associazione Mozart 14, le canzoni di Leporello, e noi andiamo a saperne di più, andiamo ad ascoltare le parole di Alessandra Bado, proprio la presidente dell'Associazione di Mozart 14. L'Associazione Mozart 14 ha iniziato due anni fa questi laboratori all'interno dell'Istituto Penale Minorile, laboratori di musicoterapia e songwriting, attraverso i quali siamo arrivati oggi al prodotto che presentiamo in conferenza, che sono le prime tre canzoni interamente scritte, musicate dai ragazzi. Domani sera in via del Pratello ci saranno proiezioni, tutti i locali che trasmettono queste canzoni contemporaneamente, e anche una mostra fotografica fatta all'interno del carcere. Quanto aiuta la musica a questi ragazzi? Tantissimo, tantissimo. La musica cambia la vita e dà speranza, perché uno di loro potrebbe anche diventare in futuro. È una forma di espressione? Assolutamente, assolutamente. Ancora nel Corriere di Bologna, il Nettuno e il sistema delle acque, storie di città, da venerdì a Santa Maria della Vita, la mostra sulle architetture idriche del Rinascimento. Chiudiamo anche il Corriere di Bologna, andiamo a leggere invece le prime pagine dei quotidiani nazionali, il resto del Carlino nella parte superiore, ciclisti indisciplinati nel Mirino, le multe sono triplicate, più di 1700 sanzioni nel 2017, da parte dei vigili urbani, nella parte centrale invece la foto di Trump, ciclone Trump, e poi le foto delle figure della Casa Bianca, Rex Tillerson, segretario di Stato licenziato, poi Mike Pompeo, nuovo segretario di Stato, e poi Gina Aspel, primo capo della CIA, Donna, nella parte laterale, emergenza giovani, pensioni da fame, una bomba sociale, rapporto shock del Censis, ancora avanti Di Maio sbatte la porta, no all'unità nazionale, centrodestra e tregua, non temiamo nuove elezioni, queste le parole del capogruppo dei 5 Stelle, nella parte invece inferiore, Giovanni Ricci, figlio di Carabinieri, mio padre con Moro in via Fani, non scordo il suo corpo, crivellato il racconto del pallone, addio anecco, bomber ironico, di novantesimo minuto. Repubblica, la prima pagina di Repubblica, la foto centrale con Di Maio e Salvini, la trincea di Maio e Salvini, a no al governo con tutti, Di Maio dice vogliamo governare, ma non abbiamo paura di tornare alle urne, Salvini invece la lega, mai con i dem, ignoriamo il tetto del 3% imposto, dall'Europa, a lato invece non c'è pace, alla Casa Bianca, Trump licenzia anche Tillerson, il presidente, ho deciso solo io, al suo posto Pompeo, dalla CIA, una donna a capo delle spie. E poi ancora nella parte bassa, la turbodemocrazia, l'analisi, il caso invece, i binari stretti di Bruxelles, poi in retroscena la tentazione del voto bis, in basso la vettura usata dalla moglie, auto blu, no della consulta, le dimissioni del giudice, fiducia in lui e nei PM, poi ancora su Avertis, raggiunta l'intesa tra Atlantia, e gli spagnoli nasce colosso delle autostrade, oggi la scelta ai vertici. Ci spostiamo sulla stampa, la prima pagina, Berlusconi, Salvini, gelo sull'Europa, nella parte alta, questo è il titolo, vertice notturno del centro-destra, sulle presidenze di Camere e Senato, mentre si allontana l'ipotesi di un voto bis. Padoan, l'Ecofin, incertezza per l'Italia, Di Maio, irresponsabile a veleni, i pozzi, nella parte centrale, foto, le librerie come quadri, per catturare lettori, il nuovo fenomeno, moltiplica gli allestimenti artistici, così il fascino trasmette ai volumi, qua la foto, la libreria, la Taneo Grand Splendid di Buenos Aires, in Argentina. A lato invece le ricette del cilindro dei populisti, e poi ancora dalla parte opposta, invece, Trump licenzia Tillerson, arriva il falco Pompeo, in basso invece la CIA, imita Bond, una donna guida le spie. Il giornale, primo titolo, fuga dal supergoverno, accordi impossibili, Di Maio chiude, Salvini mette il veto sul PD, e i Dem si sfilano, ma Berlusconi insiste, con gli alleati serve stabilità. nella parte centrale, la dura che odia i giadisti, prima donna, capo della CIA, la foto di Gina Haspel, che è stata accusata di torture in carcere. Tillerson Silurato, chi mi ha avvisato, il falco Trump affila gli artigli, si parla di politica estera, lato la nota dietro lo stallo, lo spettro del voto. E poi ancora dall'altra parte, tecnico di scopo, il minestrone fa paura, i partiti e l'allergia all'inciuccio, alla laterale, invece dibattito in Francia, se il cantante femminicida, chiede il diritto di fare concerti, intervista poi ancora al Monsignore Ravasi, appello al dialogo, serve una guida politica, poi terremoto, un PM sequestra, la solidarietà di Corriere, e la 7 sigiglia, il centro polifunzionale di Norcia. Il Corriere della Sera, Movimento 5 Stelle, boccia il governo di tutti, tensioni nel centro-destra, poi il mandato a Salvini, tratti anche con Di Maio. Ancora avanti, parla Franceschini, scriviamo insieme le regole, poi di nuovo alle urne, poi ancora il mio brutto risveglio, io il voto, l'ancien regime, ma sotto il 40% previsto dal Rosatello, un più donne in Parlamento. Nella parte invece di mezzo, ancora politica estera, Rex Tillerson, 65 anni, ex segretario di Stato, e poi Gina Aspel, invece la donna capo della CIA, e poi Pompeo, invece il nuovo assunto, come segretario di Stato, svolta di Trump, cacciato Tillerson, una donna alla CIA. E prima di andare a leggere, la prima pagina, dell'ultimo quotidiano di oggi, andiamo anche con il nostro ultimo servizio, si è conclusa ieri, la due giorni, di incontri di affari B2B, all'hotel Savoia Regency, questo sempre a livello locale, che ha visto la partecipazione, di 113 imprese emiliano-romagnole, del comparto agroalimentare e biologico, e 36 buyer esteri, promossa da Asso Camerestro, in collaborazione con Union Camera Emilia Romagna, nell'ambito del progetto True Italian Test, andiamo a sentire le parole, di Gaetano Fausto, esposito segretario generale, As Camerestro al microfono, di Leonora Monari. Questa iniziativa è un valore molto forte, perché è la prima volta, all'interno di un progetto nazionale, che è stato supportato, dal Ministero dello Sviluppo Economico, che si realizza in un'intera regione italiana, un incoming di operatori, che quando riguarda il settore food, e l'agroalimentare di qualità, che provengono dal Nord America e dai principali paesi europei, con numeri di grande rilievo, perché noi abbiamo oltre 110 imprese del territorio dell'Emilia Romagna, che sono state selezionate dalle Camere di Commercio dell'Emilia Romagna, coordinate da Union Camera Emilia Romagna, e abbiamo 30 buyer, che sono venuti qui per concludere i contratti, selezionati dalla rete delle Camere di Commercio italiane all'estero, che opera nei paesi che ho detto prima. Buona parte delle aziende che sono qui presenti, alcune con marchi anche molto prestigiosi, a livello non solo nazionale, ma internazionale, operano nel campo del biologico. Il biologico sta avendo una forte espansione, non solo in Italia, ma anche a livello internazionale, perché rientra all'interno di caratteristiche di salubrità e anche di fitness, se vogliamo, che sono al centro delle varie tipologie di vita. E torniamo sulla prima pagina dell'Avvenire, in alto, Focolari, dieci anni dopo la profezia gioiosa di Chiara, Lubi, che poi ancora Leonardo, prepensionamenti, accordo per 1100 e assunzioni 4.0, poi ancora Giovani, la Chiesa ascolta la voce dei social, e la porta al sinodo, e poi invece scorriamo un po' più in basso, il fatto, il responsabile della diplomazia usa rimosso con un tweet, non andavamo d'accordo su molte cose, dissidi dall'Iran alla Corea, gli artigli di Trump, questo il titolo, il presidente licenzi a Tillerson, il falco Pompeo, il segretario di Stato, la dura Aspel, va alla CIA. Nella parte centrale, autocei ai siriani, riaprono tre ospedali, stanziato un milione di euro, all'otto per mille, e poi ancora, migrante, eritreo, muore di fame, arrivato a Pozzallo, come usciti da un lager. Nella parte più laterale, ma sempre centrale della prima pagina, California, accolto da forti proteste, Donald visita il muro, senza, non c'è, paese, poi ancora invece in basso, e si torna in Italia, a parlare di politica, Movimento 5 Stelle, Lega, chiudono al governo di tutti, Salvini, Michael Pd, più possibilista sui 5 Stelle, Berlusconi, spiazzato, i dati dell'Istat, meno disoccupati, ma sud e giovani restano indietro, e poi invece nella parte inferiore, il caso giustizia statica, i moduli vecchi, e l'affido condiviso, pare un disastro. Bene, è arrivato il momento del nostro stacco pubblicitario, non cambiate canale, però rimanete sul 99, rimanete con Nettuno TV.